Viva la ruspa! Vaffanculo ai carabinieri! Che problema ha la polizia con la ruspa? Andate affanculo! Io invidio i russi che non hanno Renzi ma hanno la ruspa! Quelli sono i delinquenti razzisti! Via dalle strade! Va a lavorare! Salta! 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 Stai a casa tua e vai a lavorare così non rischi niente! Vado a chiudere impegnandomi a tenere le porte aperte il più possibile! Come è? Apriamo le porte! Chi è che continua ad andare avanti Indrio Diocan con la porta lì? Non sono io! Perché chi è che sarà la porta Diocanè? È Renzi! No 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 no! No, 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 no Grazie a tutti.